Ciao Ciao ragazzi Grazie di essere qui con me oggi Oggi avremo il ritorno tanto tanto richiesto dell'influencer che prova l'SMR per la seconda volta in questo caso Due premesse La prima è che come ho detto nello scorso video ma quanto pare la capacità di ascolto non è al massimo non mi riferisco a nessuno nessuno in particolare avete fatto soprattutto un nome ed è proprio la persona di cui penso di aver guardato un video ASMR in tutto proprio tipo no e comunque mi riferisco anche cioè prendo ispirazione anche da artisti stranieri quindi inutile che vi soffermiate nei due canali in croce italiani perché non è così detto detto questo vi prego di non fare supposizioni ancora su chi è sti imitando veramente perché non sto imitando nessuno in particolare sto imitando invece una tipologia di video che imita l'SMR diciamo così bene scusate se sono sembrata un po' infastidita ma mi hanno infastidito questi commenti quindi sì ve lo dovevo dire e seconda cosa seconda è che c'è un po' di casino ragazzi ragazzi perdonatevi ma questo weekend sono via non sono riuscita a registrare in questi giorni e ho veramente pochi momenti in cui c'è una parvenza di silenzio e quindi spero non vengano fastidi alcuni rumorini magari esterni quindi adesso possiamo cominciare con la nostra influencer che direi che sarà un po' migliorata è il suo secondo tentativo dai quindi pronti? ciao ok ciao a tutti eccomi tornata con un nuovo video asmr è il mio secondo video asmr è il mio secondo video provo per la prima volta l'asmr fare un video asmr e devo dire che mi sento stupida come la prima volta ma vabbè oggi ho alcuni suoni ho alcuni suoni però poi diciamo che comunque mi sono preparato questo video abbastanza bene e ho fatto un salto da Tiger per farvi per cercare alcuni rumorini interessanti quindi quindi non dite che non mi sono impegnato davvero perché non è vero e ovviamente sto facendo questo video solo perché lo scorso è andato molto bene cioè sia chiaro io non capisco perché vi piacciono questi video mi sento scema a farli figurati cioè figurati poi ad ascoltarli cioè proprio se questo è ciò che serve per portare la bagnotta a casa o la borsa di Chanel a casa questo è quello che farò quindi mettete un bel mi piace se questo video vi piace e commentate con la parola clissitra nei commenti il primo suono appunto che vi voglio far ascoltare è di questa clissitra che ho preso da Ikea che sta molto bene con tutte le cose oro che ho in casa il vetro, l'oro, eccetera e fa un suono super figo l'oro potete sentire tipo i granellini che cadono sugli altri granellini e i granellini che smattano sul vetro cavoli però c'è da dire che questo microfono già prende dei suoni non so cosa ne pensate di questo suono vattato quindi tra l'altro i miei occhi sono anche un po' ammirati col mio rossetto e questo lo lasciamo qui volevo dirvi anche che smalto e indosso sulle unghie che rossetto e che mascaro perchè ogni volta me lo chiedete allora lo smaltino è questo è questo della pupa mi trovo molto bene con questi con questi smalti della pupa devo dire sapete che le mie unghie sono vera ovviamente e hanno hanno un effetto molto duraturo sulle mie unghie sia chiaro non lavo i piatti faccio le lavatrici proprio l'essenziale se lo porto tutte in lavanderia ma io ovviamente non faccio uno sport pesante cioè perché altro cammino e corro quindi sì comunque non è che dovete dovete adalparli nelle vostre unghie allora questo è il lasting color gel smalto effetto vetro della pupa numero R175 o 100 guardate sapete che è il numero 100 penso di sì comunque R175 o 100 e costano poco costano tipo 6 euro e sono molto buoni se basta scegherare poi il rossettino che io indosso è il numero 33 della linea Ever Liquid Lipstick di WeMakeup e mi piace tantissimo secondo me secondo me mi sta molto bene questa rossa poi mi sto trovando molto 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 bene con questo mascara vabbè questo è un campioncino perché mi era avanzato della Dior ed ha questo scopolino qui e amici e amici sto trovando veramente bene comunque comunque detto questo ho comprato appunto delle cosine da Tiger la prima cosina che ho comprato è questo slime blu poi ho preso questo tipo penna che secondo me fa un suono stranissimo tipo quando scrivi e poi ho preso un sacchetto caldo freddo non saprei come chiamarlo con le palline in giall dentro questo l'ho visto in altri video e ho detto cavolo l'ho visto lo voglio prendere ed è super cute si sentono le palline che si muovono tipo qui a c'è comunque sono troppo brava c'è sentite che rumori ne faccio beh potrei pensare anche di aprire un canale ASMR a questo punto cioè sono troppo brava poi un altro oggettino che ho preso è questo quaderno questo quaderno con questi gira brilla brilla gira come si chiama sì anche questo fa un suono troppo figo sentite bene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusate, ma i miei vicini veramente non tacciano un secondo. Io, cioè, contate che già odio le persone nei video normali, normali e nella vita reale. Figuratevi quando giro questi video, cioè vorrei essere l'unica sul pianeta, la gente. Vedete che non possono stare zitti, non si senti urlare sempre. Oddio, secondo me è appiccicosissimo. Ok, allora aspettate. Ok. 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 ok allora qui c'è un po' di casino poi secondo me ho fatto tantissimi minuti di video c'è dove lo lavoraggio è un casino in editing che palle e io spero davvero che questo video a sembra vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mi piace commentate quella parola com'era? clessidra 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 e altro un altro ma anche dato che questo suone è bello cioè tipo quindi tra l'altro in questo modo si sentono molto meno i soffi quindi io direi che ci vediamo al prossimo video e mettete tante mi piace se volete un altro video aspre e lo farò insomma si cioè volentieri ho già ho già delle idee su cosa mangiare e poi magari passerò di nuovo da tiger a prendere qualcosina oppure prendere ispirazione da qualcuno adesso vedrò insomma però io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao